Convalidati gli arresti è disposta la misura a cautelare in carcere per i due ragazzi di Venafro arrestati lunedì scorso a seguito di un blitz antidroga della Polizia di Stato. La decisione adottata dal GIP del Tribunale di Sernia Arlen Picano motivata dal rischio di reiterazione del reato. I legali dei due che nel corso dell'interrogatorio di garanzia tenuto sistamane presso il carcere di Ponte San Leonardo si sono avvalsi della facoltà di non rispondere hanno prospettato la possibilità di ricorso al Tribunale del Riesame nell'intento di ottenere per i propri assistiti misure detentive meno afflittive. Abbiamo verificato alcune questioni che erano presenti nel fascicolo, le abbiamo sottoposte al GIP in udienza e sono state dal GIP valutate, tuttavia non sono state accettate quelle che erano le nostre eccezioni fatte. Il GIP ha convalidato gli arresti e ha disposto circa la misura cautelare in carcere. Nei prossimi giorni letta l'ordinanza di oggi vedremo se è il caso di imbugnarla al Riesame. Da rilevare, ed è questa probabilmente la notizia di giornata più importante, che va profilandosi una linea difensiva diversa per i due, fondata su una presunta minore responsabilità di uno dei correi, al quale peraltro non è stato contestato il possesso illegale di armi. In proposito, la dichiarazione del legale. Riteniamo che nella fase già del Riesame riusciremo a dimostrare la neutralità della condotta del mio assistito rispetto a quello che l'impianto accusato, molto grave ovviamente considerando il grosso quantitativo di droga e soprattutto il rivenimento di armi nella detenzione dell'altro correo e corresponsabile nel reato. L'aggressione agente, questo è un aspetto che il mio assistito contesta, almeno in questa fase. Poi, ripeto, lo sviscereremo durante il Riesame. Ovviamente, essendo due soggetti diversi, la linea sarà diversa per entrambi. Non ho fatto questo tipo di valutazione, in quanto inizialmente ero io il difensore di entrambi, quindi l'idea era quella di portare una linea difensiva unica, per cui non ho fatto delle differenziazioni. Mi sono concentrato piuttosto sul vedere la regolarità degli atti processuali. Per quanto riguarda poi le posizioni, io credo che sia anche prematuro oggi andare a dire quale sia una posizione più di peso rispetto all'altra. Le perquisizioni sono state uniche, la prima perquisizione ha visto entrambi le persone nello stesso posto. Poi è chiaro, si creerà una differenziazione, però poi quale abbia maggiore peso allo Stato non sono in grado di dirlo.